Noi Tiziana e cosa farà oggi Tiziana? Spacco la lama! Bravo! E con noi Claudio, cosa fa Claudio? Volta alle spalle! No, non ti puoi firmare chi firma, eh? La truffa! Ecco Tiziana che si notra nell'abisso. Ed ecco l'ha detto la carrucola, che ci dirà le sue impressioni. Evviva la e po-bon! Poi l'ha detto, non fa niente, non tira su niente. Va via dalle verticale. Ecco il secchio che marge dall'oscurità. Ecco il secchio che marge dall'oscurità. E che viene passato al successivo. Non toccare le altre! No, 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 no! Claudio, passi un messaggio. Si. Passi un messaggio. Ok.